Musica Approfondire la conoscenza e ampliare la tutela della biodiversità alpina attraverso l'attivazione di un centro che sviluppi progetti di ricerca multidisciplinari su questo importante argomento ambientale. È l'obiettivo dell'unità di ricerca VDNA Barcoding, biotecnologie avanzate per lo studio della biodiversità alpina, presentato durante un workshop mercoledì 17 settembre scorso al centro di ricerca scientifico naturalistico del mare di Lassalle. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo. L'unità di ricerca è costituita dal Museo Regionale di Scienze Naturali in qualità di capofila, dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, dal Parco Naturale del Montavic, dalla cooperativa Trebitte e dalla società Biodigital Valley che cura la parte bioinformatica. Il seminario è stato l'occasione per presentare i progetti operativi, i primi risultati, ma soprattutto le tecnologie impiegate, i servizi di analisi genetica, che potranno essere messi a disposizione delle altre realtà nazionali e internazionali, le potenzialità e le prospettive di sviluppo. Oggi è un workshop decisamente interessante, organizzato nell'ambito di un progetto che si chiama VDNA Barracoding. Il capofila di questo progetto è il Museo di Scienze Naturali e ha dei partner sia istituzionali che privati e questa è una cosa estremamente interessante perché rispecchia un po' quella che dovrà e potrà essere il futuro della ricerca e della valorizzazione bioambientale. Credo che con questo workshop si possano mettere in evidenza i lavori di ricerca effettuati a partire dallo scorso marzo, marzo del 2013, un anno e mezzo di lavori e di ricerca relativi allo studio della biodiversità di montagna e Valdostana in particolare, per lo studio del DNA relativo alla flora, la fauna e alla microflora alpina. E quindi una serie di dati e di delucidazioni in merito che potranno essere sicuramente apprezzate dai presenti. L'evento si è tenuto presso il Centro di Ricerca Scientifico Naturalistico del Mare, la Riserva Naturale Fra Morgè e Lassalle, un rifugio per le specie amanti dell'acqua molto rare, se non assenti nel resto della regione. La Riserva Naturale del Mare è una zona umida che è stata istituita nei primi anni 90 e proprio a seguito della creazione di uno sbarramento artificiale che ha determinato le condizioni adatte per ospitare, diciamo, in particolare a vi fauna migratrice. La vegetazione è quella tipica dei fiumi, delle sponde ripariali dei fiumi e sono tipi di vegetazione ormai molto ridotte che si possono ritrovare qui al Mare e all'esilo di Saint-Marcel che è l'altro esempio di questo tipo di ambiente. Questo centro è nato come sede operativa del Museo di Scienze Naturali proprio per permettere di sistemare e archiviare tutte le collezioni museali che non avevano, diciamo, una collocazione idonea. Quindi, prima di tutto, raccoglierà e raccoglie già adesso tutte le collezioni raccolte negli anni dal Museo di Scienze Naturali. Inoltre ha due laboratori di ricerca per permettere di fare attività di ricerca sul territorio e il workshop di oggi è proprio un esempio di questo. è dotato di aule didattiche per l'attività di educazione ambientale e quindi per avvicinare tutto il mondo della scuola alla ricerca, in particolare alla ricerca naturalistica, e anche di una biblioteca che raccoglie, diciamo, il meglio della bibliografia naturalistica valdostana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.